Parlando di Smith Wesson delle 500, il panorama si è arricchito di una variante, di un ampliamento estetico sulla quattro pollici, è la 500 Backpacker, qualcuno la chiama la Bear, visto l'incisione dell'orso e delle zampe sul tamburo unflutet, tamburo liscio, la canna sempre a quattro pollici, compensatore integrato, svitabile, cinque colpi, è praticamente una piccola evoluzione estetica della quattro pollici conosciuta fino ad oggi.